benvenuti sul nostro canale web tv studios vi ricordo come sempre di lasciare un like cliccate sulla campanella per non perdere tutti i nostri aggiornamenti commentate e condividete la campanella per non perdere tutti i nostri aggiornamenti commentate la campanella per non perdere tutti i nostri aggiornamenti commentate la campanella per non perdere tutti i nostri aggiornamenti commentate la campanella per non perdere tutti i nostri aggiornamenti commentate la campanella per non perdere tutti i nostri aggiornamenti commentate la campanella per non perdere tutti i nostri aggiornamenti commentate la campanella per non perdere tutti i nostri aggiornamenti commentate la campanella per non perdere tutti i nostri aggiornamenti commentate la campanella per non perdere tutti i nostri aggiornamenti commentate Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.